autoproduzione plant based buona giornata a tutti oggi volevo condividere l'idea che ho avuto di fare le monodosi per gli aperitivi per gli spuntini con in questo caso del couscous integrale con lenticchie pomodoro e salsa in altri casi lo faccio con la pasta ovviamente poi aggiungo un pochino d'olio quando vado a consumare e li tengo in frigo così se poi verso le 18 mi viene fame anziché mangiare dolciumi o gelati e cose varie mi trovo uno spuntino che comunque mi terrà bella sazia questo è certo perché sto utilizzando questo metodo da due settimane e mi trovo benissimo rimani si rimane molto sazi in particolare quando si usa il cereale integrale quindi in questo caso il couscous integrale la pasta integrale il riso integrale e così via oggi ho mangiato un piatto di questo couscous con le lenticchie e adesso non ho resistito a mettere in padella i broccoletti anche se non è periodo però li ho comprati congelati e me li ritrovo qui nel freezer ho preso le cime di rapa e broccoli oltre al misto per soffritto perché comunque è sempre bene tenerle le verdure in casa l'autoproduzione blint based è tutto buona ispirazione a tutti